ciao a tutti in questo video realizzeremo insieme a voi una semplice cuffia uncinetto che potrebbe essere se fatta in colori scuri potrebbe essere cuffia da uomo se fatto in colori vari potrebbe essere una cuffia da donna io questa cuffia ho fatto nello stesso filato che ho usato per fare la sciarpa la sciarpa classica sciarpa da uomo che chi mi segue sicuramente già visto chi mi guarda la prima volta e metto link sotto il box di informazione sotto il video quindi per questo modello che è abbastanza diciamo grande e alta come cuffia uscita io ho usato un gomitolo di grigio antracite un gomitolo di grigio chiaro e avevo le rimanenze che mi sono avanzate di questa sciarpa e quindi ci vuole circa 120 grammi di filato allora poi nel video io vi parlo di misure volevo prestare vostra attenzione se usiamo filato grosso e come in questo caso usato io si potrebbe anche ridurre la misura quando facciamo questo cerchio di base lì ho dovuto disfare perché facendo a 18 19 centimetri come vi ho fatto vedere poi risultava troppo grande essendo molto elastico filato io ho dovuto disfare e ho ridotto cioè un giro di meno quindi mi risulta adesso circa 16 centimetri lavorazione è semplicissima e questo lavoro può affrontare anche chi è prime armi quindi se vi piace questo progetto rimanete con me possiamo iniziare il lavoro io per iniziare faccio cerchio magico e faccio prima maglia e la blocco fatto faccio due catenelle fatto e dentro faccio 11 mali alte compreso questa che è uguale a una maglia alta saranno 12 quindi dentro faccio 12 mali alte 1 2 e così via quindi le faccio 11 più questa 12 ho fatto 12 mali alte e adesso finisco il giro entrando nella terza catenella dell'inizio del giro che e faccio maglia bassissima e possiamo iniziare il secondo giro secondo secondo giro secondo giro noi dobbiamo raddoppiare quindi io faccio 3 catenelle per iniziare il giro 3 e nello stesso punto faccio un'altra maglia alta e così vado avanti sopra ogni maglia faccio 2 mali alte in totale le dobbiamo fare 24 1 e nello stesso punto un'altra e così li facciamo 24 ho fatto questo giro dove sono 24 mali alte e adesso chiudo giro entrando nella terza catenella dell'inizio del giro e faccio una maglia bassissima e possiamo iniziare il terzo giro quindi cosa faccio faccio 3 catenelle che è uguale a una maglia alta e facciamo il prossimo da questo giro e anche giri successivi facciamo così dove ci sono due mali alte coppia li facciamo due dove c'è libera diciamo qui la facciamo una maglia alta arriviamo dove c'è la coppia facciamo una coppia e qui facciamo una maglia e così aumentiamo ancora quindi io in questo caso faccio ho fatto 3 catenelle che è uguale a una maglia alta faccio un'altra maglia alta nello stesso punto fatto e qui dove c'è una maglia alta qui la faccio una maglia alta che è fatto arrivo alla prossima coppia faccio una coppia cioè due mali alte e qui faccio una maglia alta nella coppia successiva faccio una coppia e qui faccio una maglia alta e così facciamo tutti i giri dove ci sono le coppie facciamo coppia dove ci sono singole facciamo singole io sono andata avanti con aumenti del cerchio e come possiamo vedere il mio cerchio risulta quasi 19 cm non quasi 19 cm e adesso ci fermiamo un attimino per parlare delle misure allora per prendere la misura giusta bisognerebbe prendere circonferenze della testa di persona per chi viene fatta la cuffia che supponiamo questa che sto facendo io una cuffia cuffia da uomo e con la circonferenza di 61 cm circonferenze della testa diviso a 3,14 risulta 19,4 come il filato abbastanza elastico per me è sufficiente anche 19 poi tanti mi fanno le domande come prendere la misura per una cuffia classica circa 54 56 cm della circonferenza della testa diviso a 3,14 uguale 17,8 in questo caso basterebbe fare aumenti fino a arrivare a 17 cm ok adesso vi spiego come vado avanti quindi da ora e poi non faccio più aumenti vado a lavorare una maglia alta in ogni maglia sottostante quindi faccio 3 catenelle per iniziare e con uncinetto entro in ogni maglia sottostante e così vado avanti per altezza desiderata della mia cuffia in questo caso sarà una cuffia che scende circa 17 18 cm e poi ci rivedremo per elastico sono andata avanti con lavoro come possiamo vedere la mia cuffia misura circa 26 centimetri della cima fino a quando devo fare elastico e come possiamo vedere io ho fatto solo mali alti ho alternato tre colori qui ho partito con grigio scuro qui anzi grigio medio qui grigio chiaro e questo è grigio antracite sembra quasi nero adesso sono arrivata al momento quando devo fare elastico e come faccio io adesso voglio fare un giro primo giro di elastico cambiando passando un colore bianco bianco grigio chiaro per fare elastico io ho cambiato uncinetto e userò uncinetto numero 5 e mezza invece per fare tutta la cuffia ho usato un 100 numero 6 quindi cosa faccio io prendo il mio filo di un altro colore entro nella terza catenella del inizio del giro prendo entrambi parte che finalmente ho fatto e chiudo il giro usando già il filo di un altro colore quindi posso solo faccio male bassissima stringo bene da questa parte faccio 3 catenelle per iniziare 1 2 e 3 e come io ho fatto tutto di mali alte quindi abbiamo già base per fare elastico quindi la prima maglia che faccio e maglia alta a rilievo a dritto quindi entro dal dritto riesco dal dritto tiro il filo e faccio una maglia alta è fatto che la seconda maglia la faccio maglia a rovescio sempre maglia alta getto il filo entro da rovescio avvolgo prendo il filo lo passo e faccio normalmente maglia alta e così vado ad alternare facendo una maglia a rilievo a dritto così è una maglia a rilievo a rovescio così e così vado a lavorare tutto il giro chiudo entrando nella terza catenella e continuo a fare sempre facendo questo elastico alternando una maglia a dritto con una maglia a rovescio fino a tenere l'altezza desiderata del mio elastico e così si presenta la cuffia pronta come possiamo vedere niente di particolare in senso che non è difficile la particolarità viene dal gioco dei colori fatta abbastanza grande abbastanza lunga fatta apposta così in modo che scenda un pochino da dietro e la stessa cuffia lo stesso lavorazione è fatto di diverso filato questo da donna e si presenta in questa maniera e spero che questo video è stato chiaro e vi è piaciuto e ci vediamo presto ciao ciao